calta nissetta massiccia partecipazione al corteo per il policlinico controlli della polizia sulle strade del nisseno università borse di studio assegnazione a tutti gli donei ruote ferme pedoni salvi calta nissetta aderisce al progetto ipotesi canicattì catania al tomaselli punto della situazione ben trovati in questa edizione del nostro telegiornale calta nissetta massiccia partecipazione al corteo per il policlinico universitario giovani in prima linea gli studenti nisseni e non solo sono scesi in piazza per chiedere l'istituzione del quarto policlinico universitario nel capoluogo nisseno il corteo al quale ha preso parte un massiccio numero di cittadini giovani e meno giovani è partito dalla piazzetta del monumento ai caduti del mare e attraversato il centro storico tutti uniti insomma gridando all'unanimità vogliamo il policlinico a calta nissetta forse per la prima volta o comunque una delle pochissime volte che i nisseni si risvegliano dal famoso torpore perché sempre ci accusiamo di non essere mai partecipi di essere sempre inermi invece questa volta vedo tantissima gente al di là della politica vedo i ragazzi che si stanno muovendo anche perché avere un policlinico a calta nissetta è veramente una un'arma in più sarebbe una cosa fantastica anche perché non ci dimentichiamo che oltre ad avere un DEA di secondo livello quale l'ospedale San Delia abbiamo anche siamo al centro fra le tre province calta nissetta e nagrigente quindi possiamo sicuramente accogliere un bacino di almeno 200 mila persone quindi calta nissetta è sicuramente la meta giusta per avere un policlinico perché siamo proprio situati al centro della sicilia quindi sarebbe facilmente raggiungibile da entrambe le province poi abbiamo anche il cefpas da non dimenticare che è un ente di formazione per i medici quindi sarebbe un connubio perfetto la manifestazione sta svegliando le coscienze civiche dei ragazzi è bellissimo che ci sono un sacco di ragazzi ma non solo abbiamo tutti i cittadini tutte le fasce d'età di calta nissetta è importante perché comunque noi rivendichiamo innanzitutto una sanità funzionante questo è imprescindibile l'ospedale è un DEA di secondo livello e lo deve essere non solo sulla carta ma anche in maniera concreta e a questo si sta affiancando anche una richiesta una richiesta forte che viene dal basso con i cittadini che si sono organizzati e direi molto bene per chiedere che calta nissetta non venga dimenticata il policlinico può essere un volano sicuramente ma non è l'unica delle cose che pretenderemo comunque un capoluogo di provincia che è stato bistrattato ultimamente e non ci stiamo più quindi chiediamo ai nostri rappresentanti che si stanno unendo con noi nella lotta di far sì che i diritti vengano vengano perseguiti e che i diritti vengano riconosciuti e oggi faremo sentire la nostra voce con gli studenti e tutti i cittadini con la C maiuscola che hanno contribuito all'iniziativa e sono tantissimi oggi abbiamo abbassato simbolicamente tutte le bandiere di appartenenza perché siamo tutti coesi per un'unica battaglia, un unico obiettivo dobbiamo imparare tanto da N a mio parere dobbiamo imparare a tirare tutti insieme la fune e forse così vinceremo la battaglia è molto importante oggi ed è il primo passo di una lunga serie di iniziative e battaglie per avere il policlinico da noi perché può comportare la rinascita della città quindi dobbiamo essere tutti coesi perché le scelte che facciamo oggi decideranno il nostro futuro abbiamo possibilità di riscrivere la storia quindi scegliamo di combattere di non accettare supinamente quanto ci viene propinato dobbiamo essere tutti coesi essere tutti in piazza e non dire io ci vado e poi ce ne andiamo al bar dobbiamo essere tutti qua perché quello che faremo oggi è una cosa che interessa tutti interessa noi che abbiamo una certa età ma interessa pure i nostri figli e i nostri nipoti perché se noi lo facciamo lo facciamo soprattutto per lui finalmente scendiamo in piazza per rivendicare il diritto di Calzanissetta ad avere finalmente il policlinico universitario e garantire non solo dei servizi sanitari efficienti a tutto il territorio che orbita attorno alla città di Calzanissetta ma anche a garantire ai nostri giovani, ai nostri figli e a tutti i professionisti dell'area finalmente un futuro e finalmente riconquistare quel diritto di restare nel territorio di appartenenza che purtroppo da anni ormai sappiamo non esistere più soprattutto per i nostri giovani e per il personale molto specializzato che è costretto ad andare fuori a lavorare e a cercare futuro e nuovi orizzonti La squadra mobile della questura di Enna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca ha affermato un uomo di origini nigeriane residente nell'ennese per frode informatica in Germania L'indagato avrebbe acquistato online in concorso con altri tramite carte di credito contraffatte biglietti elettronici di una compagnia ferroviaria causando un danno di 34.000 euro Dopo le formalità di rito l'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Enna a disposizione della Corte d'Appello di Caltanissetta Controlli della Polizia sulle strade nel Nisseno sulla circolazione stradale quindi accertate 41 violazioni, ritirate 3 patenti La Polizia di Stato nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nella provincia di Caltanissetta nell'ultima settimana ha accertato 41 violazioni del codice della strada sequestrato 3 veicoli, ritirato 2 carte di circolazione e 3 patenti di guida Inoltre 10 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo 8 per mancata copertura assicurativa del veicolo 8 per guida con patente scaduta 6 per omesso uso della cintura di sicurezza 5 per mancato utilizzo del casco protettivo 2 per utilizzo del cellulare alla guida e 4 per altre sanzioni Il controllo delle forze dell'ordine sul tessuto viario Nisseno è costante teso alla sicurezza dei cittadini e alla prevenzione dei reati E' durante un controllo di routine che gli agenti di polizia hanno segnalato all'autorità giudiziaria un 50enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica e un 20enne sotto l'effetto di sostanze stupefacenti L'uomo di 50 anni Nisseno prima avrebbe provocato un incidente stradale impattando contro un'altra auto poi avrebbe inveito contro il conducente della stessa La polizia ha disposto la confisca del mezzo e il ritiro della patente di guida Mentre sono stati i carabinieri a segnalare all'autorità giudiziaria un ragazzo di 20 anni trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti in particolare risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi Anche in questo caso i militari hanno disposto il ritiro della patente Università parliamo delle borse di studio assegnazione a tutti gli idonei l'intervento dell'assessore regionale Mimo Turano Buone notizie per gli studenti idonei al contributo borse di studio ERSU per l'anno accademico 2022-2023 La regione siciliana nel documento di economia e finanza regionale ha espressamente previsto l'ingramento delle borse di studio annuali fino alla copertura del 100% degli studenti aventi diritto Il governo Schifani fin dalla prima ora ha manifestato attenzione e interesse particolari a garantire il diritto allo studio degli studenti aventi diritto per favorire i loro percorsi universitari con la tutela del diritto allo studio universitario mediante l'incremento delle borse di studio annuali erogate dagli ERSU della Sicilia fino alla copertura del 100% degli aventi diritto dice l'assessore regionale all'istruzione Mimo Turano L'assessore Turano ha invitato gli organi di governo degli enti del diritto allo studio universitario in Sicilia ad attenersi alle disposizioni indicate attivando le procedure per il pagamento delle borse di studio sino alla eliminazione della figura dello studente d'orio non beneficiario trasmettendo con la massima urgenza ad indicare le risorse necessarie per coprire il relativo fabbisogno relativamente all'anno accademico 2022-2023 Caltanissetta aderirà al progetto Ruote Ferme Pedoni Salvi ad annunciare l'iniziativa è il consigliere comunale Oscar Aiello Caltanissetta ha dato la disponibilità a Ruote Ferme Pedoni Salvi dopo i comuni di Torino, Chieti, Arezzo, Pordenone, Udine, Oristano e Bologna anche il capoluogo nisseno aderirà al progetto di sicurezza stradale Ruote Ferme Pedoni Salvi patrocinato dal Ministero della Giustizia e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani finalizzato a salvaguardare gli utenti deboli della strada, ossia pedoni e responsabilizzare chi ha commesso un reato in violazione del codice della strada Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità la mozione presentata dal capogruppo della Lega Oscar Aiello con la quale il Consiglio ha impegnato il Sindaco e l'Aggiunta a firmare un protocollo di intesa tra l'Associazione Familiare e Vittime della Strada, il Corpo di Polizia Municipale Nisseno e l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta con questa adesione ha dichiarato il Consigliere Aiello che ha violato il codice della strada principalmente per guide stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti sarà preso in carico dall'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna e dopo un corso di formazione entrerà nel ruolo di assistente pedonale che adeguatamente formato dagli agenti di polizia presidierà gli attraversamenti pedonali davanti le scuole o in qualunque altro luogo di aggregazione sociale lo scopo è riparare i danni cagionati alle vittime dei reati e alla comunità attraverso azioni concrete e visibili alla cittadinanza quali i lavori socialmente utili con la firma del protocollo di intesa concluso Caltanissetta sarà probabilmente la prima città della Sicilia ad aver aderito al progetto che incentiverà la sicurezza stradale e stimolerà il senso di responsabilità degli imputati indagati e condannati ai lavori di pubblica utilità Il valore dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato incontro martedì al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta L'Unione Scolastica Regionale Sicilia di Enne e Caltanissetta in collaborazione con il Comune Nisseno ha organizzato un incontro sul valore dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato ai fini dell'orientamento scolastico Il convegno che si terrà il 14 marzo presso il Teatro Regina Margherita ha l'obiettivo di comprendere la riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e le relazioni tra le scuole e le imprese del territorio con l'intento di accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro È necessario informare i giovani per orientarli nella costruzione del proprio percorso di vita e della carriera professionale Oggi più che mai recita la nota ufficiale è difficile individuare un settore che li porti al lavoro sicuro La scelta della scuola e dell'università è sempre più complicata perché è importante per loro affacciarsi sul mondo del lavoro Ecco che fare esperienza anche durante gli studi può essere utile non solo per capire meglio cosa può riservare il futuro ma anche per comprendere quali possano essere le situazioni e le relazioni più utili a generare opportunità in linea con le loro vere ambizioni Il ragazzo che segue un percorso di studi formativo deve anche essere messo nella condizione di poter sviluppare la capacità di gestire e risolvere situazioni problematiche imparare a svolgere il proprio ruolo assumendo una prospettiva diversa come se quel ruolo fosse la propria impresa In questo scenario rivestono una grande importanza sia l'apprendistato che comincia mentre si è tra i banchi di scuola che la presenza di istituti tecnici superiori ovvero istituti che nello specifico preparano i giovani all'ingresso nel difficile mercato del lavoro per esercitare professioni qualificate Solo se debitamente guidati conclude il comunicato i nostri giovani saranno in grado di affrontare il mondo del lavoro con più consapevolezza e competenza L'assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato oltre 17 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico nel mese di febbraio 2023 in favore dei disabili gravissimi Attraverso un monitoraggio costante dichiara l'assessore Nuccia Albano riusciamo a sostenere migliaia di persone e le loro famiglie in tutta l'isola erogando con puntualità le somme e richieste I fondi verranno ripartiti alle nove aziende sanitarie provinciali sulla base delle richieste pervenute al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e disabili gravissimi censiti sul territorio regionale sono ad oggi 12.811 Viaggi gratis per le forze dell'ordine sul trasporto pubblico su gomma è questa la notizia che riguarda la mobilità data dall'assessore regionale Alessandro Arrico che dichiara Viaggi gratis per le forze dell'ordine Il servizio La presenza delle forze dell'ordine sui mezzi pubblici è sinonimo di sicurezza non solo per i passeggeri ma principalmente per tutto il personale del mezzo In questa direzione va il decreto dell'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Arrico Anche nel 2023 quindi le forze dell'ordine potranno viaggiare gratuitamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma Il provvedimento è valido a partire dal 1 marzo e riguarda gli appartenenti alla Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri alla Guardia di Finanza ai vigili del fuoco al Corpo Forestale alla Polizia Penitenziaria alla Polizia Locale Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera Forze Armate dello Stato e il personale di Prefettura che svolge attività di polizia e di ordine pubblico È un provvedimento ha detto l'assessore Arrico particolarmente atteso degli appartenenti alle forze dell'ordine che il governo Schifani ha voluto inserire nella legge di stabilità e che si concretizza con questo decreto si tratta di un segno tangibile di riconoscimento da parte della regione siciliana nei confronti di tutto il personale che ogni giorno si impegna con dedizione per la difesa della legalità Parliamo adesso del mandorle in fiore attesa per la fiaccolata dell'amicizia in terra agrigentina La città di Agrigento è ancora in fermento per i festeggiamenti della 75esima edizione del mandorle in fiore Tante le iniziative in programma per celebrare questa importante manifestazione che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo Oggi in particolare Agrigento si prepara per la fiaccolata dell'amicizia un evento molto atteso che vedrà la partecipazione di tantissime persone Si tratta di una sfilata di fiaccole che attraverserà a partire dalle ore 17 le vie del centro storico della città da Piazza Vittoria Emanuele a Piazza Marconi fino al Viale della Vittoria creando un'atmosfera magica e suggestiva Alle ore 20 e 30 al Teatro Pirandello si terrà lo spettacolo del 65esimo Festival Internazionale del Folclore che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da diversi paesi del mondo Un'occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di altri popoli E per concludere in bellezza la serata in Viettunea alle ore 22 si terrà la Notte dei Patrimoni un evento che prevede spettacoli etnomusicali itineranti per le vie della città Tutti gli appuntamenti in programma sono pubblicati sul sito ufficiale www.mandorleinfioragrigento.com e sull'app Agrigento Green il Salva Terra al Teatro Margherita appuntamento per i più giovani l'ecologia in primo piano Svelamenti ritorna domenica 12 marzo alle ore 18 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta con uno spettacolo per bambini e ragazzi con un forte messaggio ecologico intitolato Green il Salva Terra lunedì 13 marzo il matine per le scuole lo spettacolo ideato dalla regista e drammaturga Antonella Caldarella offre una narrazione divertente ed educativa sulla tematica ambientale ed ecologica e vuole sensibilizzare il pubblico giovane sulle pratiche virtuose per la tutela del nostro pianeta Green il Salva Terra racconta la storia di due cittadine una immersa nella spazzatura e governata dalla potente Lady Trash e l'altra pulita e ordinata governata dal preciso sindaco di Borgo Tranquillo e sostenuta dalla teoria Piccoli Passi di Miss Wonderful e del suo assistente alieno Green il Salva Terra lo spettacolo rientra nella sezione famiglia teatro e ha un costo di ingresso di soli 5 euro domenica il Consiglio regionale di Italia Nostra Sicilia si riunirà a Caltanissetta la riunione sarà presieduta da Leandro Ianni eletto lo scorso settembre 2022 per la sesta volta alla presidenza regionale di Italia Nostra e dalla consigliera nazionale di Italia Nostra Eliana Gissara le sezioni e presidi che compongono il Consiglio regionale di Italia Nostra Sicilia sono Agrigento Augusta Caltanissetta Catania Castelvetrano Isole Olie Nebrodi Sciacca Trapani Paceco Vittoria Palermo Messina Piazza Armerina Siracusa Milazzo Melilli Lentini Valdinoto e Valplatani Ipotesi Canicattì Catania Alto Maselli il punto della situazione sulla partita in programma domenica 19 marzo Potrebbe essere lo stadio Marco Tomaselli ad ospitare il 19 marzo l'incontro di calcio Canicattì Catania valido per la 28esima giornata del gironei di Serie D La società agrigentina ha fatto esplicita richiesta di giocare a Caltanissetta Abbiamo ascoltato il direttore generale della Nista Vincenzo Cancelleri e l'assessore in merito Fabio Caracausi che ha dichiarato che l'amministrazione comunale sarebbe favorevole ad ospitare questa gara importante al Tomaselli e che aspetta il beneplacito della questura di Caltanissetta Noi come società Nista siamo messi a disposizione dopo la richiesta da parte del Canicattì di poter utilizzare il Tomaselli per la partita con il Catania perché riteniamo un evento importante per la Città di Caltanissetta per la promozione della Città di Caltanissetta perché comunque è una partita dove viene a giocare una squadra che probabilmente proprio quella domenica potrà vincere il campionato e noi dal punto di vista sportivo abbiamo effettuato tutte le richieste per il calcio per l'anticipo della nostra partita con il Miss Inmeria al sabato proprio per permettere al Canicattì e al Catania di disputare la loro partita ci auguriamo che questo possa avvenire perché ripeto lo sport deve primeggiare oltre tutte le rivalità ma anche perché ripeto Caltanissetta per quella domenica potrebbe diventare a livello regionale la capitale del calcio Continuiamo a parlare di calcio Serie D domenica Ragusa San Cataldese i Verdi Amaranto puntano alla vittoria per tentare l'ingresso in zona playoff il servizio In casa San Cataldese è tempo di fare visita alla Ragusa Calcio la squadra di Infantino sarà di scena in terra e blea per la 27esima giornata del girone I di Serie D la brillante vittoria contro il Trapani ha reso più nitida la tanto attesa salvezza grazie ai 37 punti al settimo posto in classifica per la San Cataldese una trasferta delicata contro Ragusa alla ricerca di punti preziosi per esorcizzare la zona playoff questa la 27esima giornata del campionato di Serie D girone I in programma domenica 12 marzo ore 14.30 Trapani Realla Versa Locri Paternò San Luca Città 10 Reale Mariglianese Città di Sant'Agata Vibonese Canicattì con calcio di inizio alle 15 Catania Cittanovese Licata La Mezzia Terme Santa Maria Cilento Castrovillari Ragusa Calcio San Cataldese Parliamo adesso dell'eccellenza domenica la Nissa sarà impegnata sul campo dell'Enna capolista nel Gironea in condominio con l'Agragas Dopo la beffa subita nell'ultima giornata di campionato con la sconfitta maturata ancora nei minuti di recupero contro il Cus Palermo la Nissa è costretta a rialzare la testa ma l'avversario da affrontare è molto difficile i biancoscudati domenica saranno di scena per la 25esima giornata al generale Gaeta contro l'Enna capolista del Gironea in coabitazione con l'Atragas partita dura con una squadra forte che viene dalla Roboando e vittoria di Mazzara e consapevole della propria forza lanciata in questo finale di stagione dalla voglia di promozione gli uomini di Alessio Sferrazza devono uscire da questo momento di crisi e di risultati che l'hanno portata in una zona di classifica molto calda e devono riuscire a non farsi risucchiare nel gruppo play-out dove per il momento la Nissa dista di sole quattro lunghezze e la Nissa si giocherà a porte chiuse dopo la decisione della prefettura di Enna dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive in base ai fatti che si sono susseguiti vicino al Palmindelli prima della gara di andata Eccellenza Girone A 25esima giornata Castellammare Acragas Cus Palermo Casteldaccia Don Carlo Misilmeri Mazzara Enna Nissa Nuova città di Gela Oratorio San Ciro e Giorgio Profavara Sciacca Resuttana Leonfortese Mazzarese Parbonval E' il momento di parlare del volley Sabato l'Alba Verde contro la Stefanese al Palacanizzaro fischio d'inizio alle 18 Rinfrancata dalla vittoria di Torretta di Crucoli l'Alba Verde ritorna tra le mure amiche del Palacanizzaro per ospitare sabato 11 marzo con l'inizio alle ore 18 la Stefanese di Sando Stefano di Camastra La formazione Nissena scenderà in campo con la voglia di allungare la striscia positiva di 4 vittorie consecutive nel girone di ritorno e di confermare l'imbattibilità casalinga La Stefanese sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative ed è piazzata al terzultimo posto in classifica con soli 9 punti anche se qualche aggiustamento nell'organico l'ha resa in queste ultime settimane più competitiva La gara di sabato sarà importante per confermare il percorso di crescita e dovrà essere sostenuta con il massimo della concentrazione per migliorare gli automatismi utili per affrontare un finale di stagione che si presenta pieno di insidie E ora basket invicta sul campo del Sant'Agata Cusm a Ragusa Archiviata gara 1 delle semifinali playoff l'invicta fa visita nel parquet di Sant'Agata per cercare il pass qualificazione in questa gara di ritorno Gli uomini del coach Giuseppe Spena dopo aver vinto gara 1 per 83 a 59 in settimana hanno tenuto alta la concentrazione e lavorando sodo perché a Sant'Agata sarà una dura battaglia e che per affrontare questo tipo di partite bisogna lavorare per migliorare sempre di più basket serie D semifinali playoff gara 2 capo basket Zanella Cevalu Sales Catania Masca Lucia Sant'Agata Invicta Siracusa Basket Sporting Adrano sfida al vertice nel girone D del campionato di basket di promozione dove la Cusn Caltanissetta dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Salusport sarà di scena a Ragusa nel parquet dell'Olimpia i cestisti nisseni dopo aver raggiunto il primo posto in classifica in coabitazione con i ragusani cercano l'allungo proprio sui padroni di casa che dopo aver riposato la settimana scorsa vogliono ricominciare nella loro marcia in questo big match contro la Cusn basket promozione girone D quarta giornata del terzo turno Olimpia Ragusa Cusn Salusport la Fenice Priolo riposa nuova città di Gela questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meto e alle informazioni di pubblica utilità vi ringraziamo per l'attenzione buon proseguimento con la programmazione di TFN ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato scala europea possiamo notare di fatti le correnti fredde che interesseranno tutti gli stati oltre Alpe con clima ventoso e qualche precipitazione anche sull'Italia i venti saranno tesi da ovest a nord ovest andiamo al dettaglio perché sarà una giornata di variabilità più sole al nord Italia mentre passaggio di nubi alternate a schiarite al centro sud in sintesi la mappa delle precipitazioni possiamo notare le nevicate sulle Alpi settentrionali di confine e Valle d'Osta e al centro sud invece variabilità poche le precipitazioni in sintesi quindi le nevicate sulle Alpi più settentrionali di confine e poi anche precipitazioni sulla Valle d'Osta in pianura padana invece bel tempo con temperature per il favonio anche oltre i 20 gradi al nord ovest variabilità al centro sud ma saranno scarse le precipitazioni ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trapi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Buonasera Via Edmondo De Amicis Servizio notturno Vizzini Via Le Trieste Grazie a tutti i nostri Grazie a tutti i nostri